Ciao ragazze, ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi nuovo svuota la spesa, stavolta Lidl. Allora, partiamo subito da frigo e freezer, come al solito. Ho speso all'incirca sulle 49 euro e vi escono tutti i prezzi qui. Allora ho preso uno di formaggio grattugiato, poi ho preso questo trancio di salmone, anzi un filetto, come surgelato ho preso soltanto queste patate qui per farle fritte, poi ho preso delle banane, questa mortadella che era in offerta, poi ho preso la pancetta affunicata, una sfoglia rotonda, questi yogurt, soio e mirtilli che a me piacciono un sacco, poi ho preso uno di wurstel, questi da 3, una confezione di salame milano e una confezione di kebab di pollo. Adesso passiamo alla dispensa. Allora, come dispensa ho preso uno di liquore, questo qui alle erbe, uno di omino bianco, smacchia facile, poi ho preso questi arachidi coperti di una crosta al sapore di BBQ, che sono già aperti perché mio figlio li ha assaggiati, poi ho preso due di questi muffin al gianduja e due pagnottine di queste, poi gli arachidi in guscio, i pistacchi, la polenta di funghi, ai funghi che voglio provare, vediamo com'è, poi ho preso questi due tipi di cioccolato, questo è quello che prendo sempre, il cioccolato bianco con le fragole e poi ho preso quest'altro cioccolato che è all'interno con una mousse e dell'arancia, poi ho preso questi altri che sono mix di noci, arachidi, anacardi che sono ricoperti di miele, poi i dischetti struccanti che mi erano finiti, questa diciamo nutella e queste mentos, il pacco da tre, niente ragazzi questa era la piccola spesa che ho fatto a Lidl, io per adesso vi mando un bacio, mi raccomando iscrivetevi, seguitemi su Instagram, mi metto il nickname e ci vediamo al prossimo video, ciao!